benvenuti o bentornati nel nostro canale youtube oggi siamo a muravera costa rei e oggi visiteremo insieme la spiaggia di sant'elmo adesso io alessandrone così l'ho chiamato vi faremo vedere la spiaggia di sant'elmo a tra un po grazie a tutti grazie a tutti oggi è 15 ottobre e credetemi che fa veramente caldo poi tra l'altro ho anche dimenticato il cappellino a casa quindi oggi mi devo bruciare per forza e va bene abbiamo iniziato il sentiero che ci porta verso monteturno dalla spiaggia di sant'elmo vediamo un po' 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 abbiamo alle mie spalle la montagnetta di monte turno stiamo inoltrando nel sentiero della montagnetta e tra qualche minuto dovremmo trovare la cala monte turno il sentiero è un po' in salita adesso comunque un panorama e una tranquillità assoluta che ha è un po' 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 uno Sì, sì, sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti